Volevamo sapere da te se hai già trovato casa lì a Villa, dove andrai ad abitare Abbiamo avuto qualche problema logistico dovuto anche al fatto che io era figliolo quando ero a Cariccio Quando? Scusa? Giocavo nelle giovani dell'Archi Ah addirittura Con Bruno Nicolazzo Ah Bruno l'arbitro attuale, adesso fa l'arbitro No, il fratello forse fa l'arbitro Ah il fratello fa l'arbitro, non lo so No, guarda, io No, ora sogno cotto Tom Maia, siamo a Catona Che stai facendo del Piero a Catona? Sì, non trovo a strada Sì, montanato c'è una calura Non vivo a strada, morrivo a Villa Perché ci sono sempre posti in blocco È vero, è vero Sì, è vero, è vero Sì, è vero